Hai bisogno d'aiuto? No, no, no. Sì. Sai come tornare indietro? No. Nemmeno io. Scherzavo, vieni. Ehi! Prima ho visto un orso. Oh, complimenti. No, era un... era bianco. Sì, però non un orso polare. Lei ne sa qualcosa. In che senso bianco? Bianco, era bianco. No, non può essere un orso spirit bear. Spirit bear? Non è la loro zona. Sì, ma io l'ho visto. D'accordo. Dove? Era... Hai fatto delle foto? Non so, cioè sì, se sono venute. Interessante. Aspetti. Questi orsi spirit bear? Ne rimangono solo 300 esemplari. Vivono quasi tutti sulla costa occidentale. Sull'isola di Princess Royal. Qualcuno si è dato da fare. Ma pazzesco. Sembra quasi che vogliano farci un parcheggio. E questo è niente, ragazzo. Più a Ovest hanno distrutto una foresta di alberi millenari. Sai come i mobili da giardino in legno vanno molto. Solo che qui ci vivono gli orsi. Anzi, ci vivevano, se va avanti così. Mi presteresti la tua macchina, la mia si è rotta. Sì, faccia pure. Tieni. Grazie. Io sono Lloyd Blackburn, ente protezione. Ente per la protezione forestale. Esatto. Ente protezione. Ma non sarebbe il suo lavoro evitare disastri come questi? Tu cosa suggerisci? Non so, bisognerebbe protestare e scrivere al governo. Fallo pure se vuoi. Io non ho molto tempo libero. No, chiamami quando hai le fotografie. Ehi, vieni o no?